I gesti parlano più delle immagini e delle parole e Papa Francesco ancora una volta si è acchinato sui cuori degli ultimi e degli afflitti, lavando i piedi a 12 ospiti del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto. Nel pomeriggio del Giovedì Santo, inaugurando il Triduo Pasquale con la missa in Cina Domini, il Pontefice ha incrociato gli sguardi di quanti hanno compiuto passi di paura in fuga dagli orrori della guerra ed incertezza per un futuro senza casa e non di rado senza affetti. Nel corso della celebrazione Papa Bergoglio non ha solo evocato il gesto di Gesù che serve e che lava i piedi, ma ha ricordato anche Giuda che vende il figlio di Dio per 30 denari. Due gesti, uno che rimanda alla fratellanza e l'altro che parla di tradimento. E anche oggi ci sono uomini e donne, musulmani, hindù, cattolici, copti, evangelici, che si sentono figli dello stesso Dio e vogliono vivere in pace, integrati. E ci sono uomini e donne che seminano guerra e distruzione. Il pensiero è corso subito a Bruxelles, ai sanguinosi attentati compiuti nel cuore dell'Europa e anche oggi, come lo è stato per Giuda, possiamo vedere altri dietro i fatti. Dietro quel gesto, ha detto Papa Francesco, ci sono i fabbricanti, i trafficanti di armi che vogliono il sangue, non la pace, che vogliono la guerra, non la fratellanza. Siamo diversi, siamo differenti, abbiamo differenti culture e religioni, ma siamo fratelli e vogliamo vivere in pace. E questo è il gesto che io faccio con voi. Ognuno di noi ha una storia addosso. Ognuno di voi ne ha una storia addosso. Tante croci, tante dolore, ma anche ha un cuore aperto che vuole la fratellanza. Ognuno nella sua lingua religiosa preghi al Signore, perché questa fratellanza si contagi nel mondo. Perché non ci siano le trenta monette per uccidere il fratello, perché sempre ci sia la fratellanza e la bontà.